Ma bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di AstaGoogle Allora raga, oggi avevo pensato di portare il quinto episodio di Minecraft Ieri ho fatto il quarto E niente raga, oggi volevo portare il quinto Quindi oggi andremo a migliorare la casa sull'albero E a vedere se riusciamo a trovare qualche pecora per crearci il letto Un mio amico mi ha consigliato di fare ovviamente Infatti lo saluto che mi ha dato un consiglio Ciao Zizzi ti saluto e grazie per il messaggio E grazie per il supporto Mi ha consigliato di fare ovviamente un allevamento Questo allevamento lo farò però devo trovare prima almeno due pecore Perché se no non posso farlo E per trovare due pecore ci vuole insomma Perché le pecore dalle parti in cui ho costruito io la casa non ci sono Quindi dobbiamo trovarle magari un po' più lontane Dobbiamo craftarci magari qualche Che ne so un po' di Un po' di Come si chiamano? Un po' di O che non mi viene Cioè insomma per legarle al collo e farle venire Capito? Però Non lo so Bu Comunque io questa zucca qua Fammela raccogliere un attimo qua La raccolgo raga così Si toglie Ok Vabbè il nostro campo sta messo abbastanza bene Campetto poi non è che è proprio tanto Ok raga andiamo Vediamo di andare un pochino in giro a cercare qualche pecorella Vediamo un po' se le troviamo Intanto Qua possiamo craftarci qualcosa Ah eccole le cesoie Eccole Le cesoie Che almeno così non faccio Non le uccido Con le cesoie posso Posso prendere la loro lana Senza ucciderle Però Oh avevo un'accetta io rimasta Vero? Si Ok Che volevo prendere un pochino di legna raga Perché era accorto Vai Prendiamoci Un pochino un'accetta E tagliamo un po' di legna Vai Eh mi sa che non lo prende tutto Ah si l'ha preso tutto Vai perfetto No qua non ci arrivo raga Vabbè Aspettate che Volevo un attimo Giusto che vi laggera forse un pochino Volevo abbassare un pochino gli fps Se riesco proprio da qua Eh mi sa che non posso Eh ok Audio video Ah non li posso abbassare raga Che diavolo Provo a mettere pausa Eh raga niente da fare con gli fps Nel prossimo video li abbasserò Comunque ora sopportatele un pochino il lag Eh vabbè Andiamo Sì A raccogliere un po' di legna Ecco nello strato verde Qui si esce dalla foresta Dovrebbero stare alcune pecorele Nello strato verde Quindi lì dobbiamo andare a vedere Ok direi che ne abbiamo abbastanza dai Vabbè là non ci arrivo Scogliamo qua e basta Ok perfetto Ok andiamo verso di qua a vedere se ce n'è una Là c'è un cavallo Non ne vedo neanche una Mi sa che non ci sono raga Vabbè intanto uccidiamo questa mucca Vieni qua Perfetto Presa Oh merda scheletro Via 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 Scheletro C'è uno scheletro là All'attacco E mori 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 Ok è morto È morto raga Me ne mangio una cruda Anzi no è uno spreco Fermo Andiamo vediamo se ne ho una Una Vediamo se ho una cosa da mangiare No Non desidero mangiarmi questo Ah qua c'è anche Questo qui è anche buono da tagliare Vai Tagliamo anche questo Oh merda Creeper 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 qua Via Creeper Creeper Attenzione eh Ma col creeper dobbiamo stare attenti Lo facciamo venire in una zona un po' piatta Così è più semplice ucciderlo Facciamo venire qua sopra Ma viene Se di no Ah eccolo sta venendo Sta venendo Eccolo Vieni Vieni Merda merda Sali 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 Merda Vieni Sali 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 Ma ti ammazzo Ok qua va bene Perfetto Uh per poco Pochissimo raga Via 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 Andiamo qua Andiamo qua Ok è morto Ci ha dato Ci ha dato due pezzi di polvere da sparo Perfetto Abbiamo battuto raga Questo è il nostro primo creeper abbattuto Perfetto Ehm Vabbè A questo punto aspettiamo che si fa giorno Poi magari quando si fa giorno Torno A cercare Qualcos'altro Va Ora è meglio se andiamo a casa A cucinare anche queste due bistecche qua No comunque c'è Veramente siamo messi abbastanza bene Perché abbiamo La legna ce l'abbiamo Il vetro ce l'abbiamo La pietra ce ne abbiamo abbastanza In miniera La zucca ce l'abbiamo Il cibo ce l'abbiamo abbastanza Ce l'abbiamo a volontà Io direi di Di poter andare a casa Oddio Oh raga Si è buggato Minecraft Raga si è buggato Minecraft Si è buggato Se qualcosa si è buggato raga Si è buggato Minecraft Aspettate Si è buggato Minecraft Guardate Si è buggato Oh mio dio santo Ma si è buggato Strano però Oh si è tolto Oh raga si è tolto Si è sbuggato Si era tipo buggato il mondo No aspetta Ora la ricca Vedi che si bug Che strano Guardate raga si è buggato Minecraft Non si sente neanche più la La pioggia Non si è che potrei chiedere nel vuoto Si è buggato veramente Vabbè raga proviamo ad uscire e rientrare va Poi magari casomai vedo di fare tipo ripristino Vai proviamo ad uscire e rientrare dal gioco Vediamo magari se questo è il problema Lasciamo rientriamo Salvo qua Perfetto Vai gioca Ah intanto vedo se sto registrando Si sto registrando Ok Vai proviamo Vediamo un po' se lo fa Strano però raga Non l'ha mai fatto La prima volta Che lo fa Ok vediamo Vediamo un po' Più o meno Non è che è migliorato tanto Ma è normale raga Io non lo so se è normale però eh Ma è normale che carica così? Vabbè che ho appena avviato il gioco Ci sta però Un po' troppo ci sta Vabbè ammazziamo questi qua Cosa mai poi Faccio ripristino Se le continua Muori 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 Ok Ok perfetto Qua c'è un ragno Oh merda sono troppi Via 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 Ho esploso un creeper dietro di me raga Non so come mi so salvato No la spada Merda Scappa 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 Raga mi si è consumata la spada Oh ci sono due streghe No 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 Le streghe no Le streghe no Le streghe no Via 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 Merda no Le streghe no però eh Ma è troppo Vabbè raga Devo provare ad ammazzarle Casomai poi so la strada di ritorno a casa Uh da qua da qua Ammazziamo da qua Ok Ok è morta Una è morta Una è morta raga Muori Ok è morta pure questa Ok tutti morti Ok sono andate le streghe Le streghe sono andate Perfetto Ok Vabbè Dovrei cuocere questa carne qua E mangiarcela Vai Andiamo Depositiamo anche qualcosa Nella cassa Vai Mi ho qua Depositiamoci Queste le cose che non ci serve La redstone Il cuoio La vala di pietra Cordicelle Rastoni Zappa di pietra Le frecce Il legno Un po' lasciamocelo Un po' lasciamocelo Ok Aspè un po' Aspè 14 Depositiamo qua Ok Un po' di carbone Andiamo a qua Ok La carne marcia Pure Questa me lo tengo Le ampolle anche Mi dovrei creare Un'altra Un'altra Cassa Per metterla Sull'albero Come aspettate raga Mi si è alzato un po' Troppo il volume Delle cuffie Ok Questi qua uniamo E così ci facciamo Un po' di spazio E qua ci mettiamo le ossa Anzi no Le ossa possono essere unite qua Se mettiamole qua Ok Il vetro anche Che tanto non ci serve Insomma Sì Pure questo qua Può essere unito Vai E poi Vabbè Pogniamo il bastone Dove sta Eccolo Perfetto Perfetto E poi Vabbè Mettiamoci le assi Che tanto non ci servono No Non si possono Ah Queste qua le possono Unire Ecco Ok Vabbè Ridepositiamo il fiore A sto punto Ok Ci possiamo Tenere queste cose Ma mettiamo a cuocere Magari Queste qua Vabbè cuocete Anzi Un'altra cosa Questo legno qua Volevo un attimo cuocerlo Per farci Un po' di carbonella Almeno così ce l'abbiamo E intanto Intanto che cuociono Intanto che cuoce tutto Vabbè Intanto mi mangio la bistetta Ok Ecco Ci confitiamo Un'altra Cassa Per metterla Sulla cassa Sull'albero Ce la posso Craftare Aspetta Mi serve Mi serve un attimo Il legno Aspetta Ce l'ho qua Ecco L'avevo depositato Prima Vai Craftiamoci Aspetta Posso craftare Pure da qua Ecco qua Perfetto Vai Craftiamocela E la andiamo a mettere Sulla cassa Sull'albero Casa dei nabbi Ovviamente Di terra Dei nubbi Casa dei Casa dei Pro Contro Casa dei nabbi Aspetta Qua c'è uno zombie Attenzione Mori Mori male E mori Ok Vai Saliamo Perfetto Ok La posizioniamo Qua dai Qua va bene Anzi no E' meglio qua Sì qua vicino All'entrata Mi piace di più E se la voglio mettere Qua fuori Si fa Dai Più bello Qua fuori Mettiamola qua fuori Qua Così è bello E ci mettiamo Beh Questa carne marcia E legno Dai Ma per adesso Va bene così Poi più avanti Magari Ah si Avevo detto Che nella prossima puntata Volevo fare Questa cosa Delle scale coperte Infatti si Ora la faccio Raga La faccio subito Appena Qua c'ho Le due bistecche Là dentro Ok Perfetto Andiamo Il tasto sbagliato Stavo per spaccare La poccia La porta Forza di pugno Ok Qua si è cotto Sì Prima che si consumi Mettiamo subito Le bistecche Vai Perfetto In frattempo Le bistecche Qua c'hanno bene bene Dai ti prego Dimmi che ti basta Una sola carbonella Dai Fattela basta Fattela basta Così dove è perfetto Ti prego Ti prego Ti prego No L'ho ricaricata Poco dopo Che palle Potevamo risparmi Una carbonella Peccato raga Guarda Ma a questo punto Ma questa qua Si può soccorre No Non si può coce Il vetro neanche 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 Vabbè Insomma Ma io ce l'ho un po' di pietra Volevo vedere se Volevo un po' di pietra Vabbè Sì la pietra Ne ho abbastanza Volendo Vi volevo ricreare un piccone Ce l'ho il piccone No Infatti Ora ce lo richiamo subito Prendiamoci un po' di pietra E creiamoci un bel piccone Raga Ah devo prendermi anche Bastoncini Giusto Ok Perfetto Eccolo qua Vai Ce lo mettiamo Nell'inventario Di riserva E più ci creiamo Anche un'accetta Ma Giusto che ci siamo Noi Perfetto E un'altra accetta Ce l'abbiamo Ok Ora andiamo a raccogliere Vediamo se c'è Se troviamo No 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 Vabbè lo facciamo dopo Allora I ragni di giorno Non dovrebbero attaccare No Infatti non attaccano Volevo andare A costruire la scaletta Che mi avete consigliato No Che avevo detto io Nello scorso video Quindi sì Volevo fare Tipo Aspetta Qua però ci serve la scala Dobbiamo fare attenzione A non cadere Ce l'ho la pietra Sì Eccolo Ok Dobbiamo fare Così Allunghiamo Questi due Ti tiro La vedo brutta La vedo brutta La vedo brutta La vedo brutta Merda Devo fare tipo così Raga Però più veloce Perfetto Un'andata Vai Basta così Sennò dopo lo faccio Troppo lungo Non riesco ad entrarci Ah beh Qua è semplice Ce l'ho Ce l'ho Il sostegno Vai 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 Ok Pure questa è andata Ora Dobbiamo allungare qua Quindi risaliamo Di nuovo Vai Risaliamo Aspetta Però non va bene Merda Mi sono fatto pure male Come dovrei fare Aspettate C'è un'idea Faccio così Per allungare Faccio così Salgo Perfetto Ottimo per riscendere Ma come Per riscendere Come faccio Uh aspetta Posso usare Gli alberi Ah grande Ah mi sono fatto male Qua Pure qua Vabbè Ne mangiate una Bistecca Che fa prima No Non ho finito Di mangiare Che fail Ok Ok Questo qua L'ho fatto Questo qua Ce lo possiamo Riprendere Vai Dopodichè Sì Dobbiamo allungare Anche quest'altro Quindi facciamo Lo stesso procedimento Però stavolta Facendo più attenzione Mentre scendiamo Magari Vai Perfetto Dovrebbe Essere completato Così Sì Ok Facciamo Prendiamo di qua Qua Uh che culo Che culo Non sapevo che mi faceva male Ok Ora Vabbè sì Rompiamo ovviamente qua Vai Rompiamo qua Perfetto E ora Allunghiamo Facendo così Guardate qua Quanto è figo Viene proprio Bene Bene Poi Facciamo così Come vedete raga È coperta la scala E noi ora volendo Possiamo fare così Senza cadere Vedete È molto più figo Così raga Possiamo fare così Senza cadere Figo eh E qua Una chest E poi dopo un po' Allungheremo Sempre di più Ah qui avevo pensato Anche Aspettate che devo andare A prendere I fornimenti Per farlo Avevo pensato Di farci tipo Un Tettuccio Quindi andiamo Nella casa A prendere Magari Un Tettuccio Vai Vediamo se c'è qualcosa Qua raga Sì Altra pietra Ce l'ho Vai Prendiamola E volevo crearci Tipo un Tettuccio Raga Ora vi faccio vedere Come lo voglio creare Aspetta però qua è meglio Si allunghiamo Qua Aspettate Ecco così È meglio Ok sì Così Perfetto Ecco Volevo fare Di puntettuccio Qua così Aspettate Che lo faccio Attenzione a non cadere Oh merda Poi Ecco Poi vi volevo avvisare Che fra qualche giorno Porterò anche Arma 3 Raga Vi farò vedere Un pochino di partite Che ho creato Ovviamente Offline Ok Ecco Volevo creare Tipo Magari Un tettuccio Così Che si affacciava Sul lago Che ne dite Così è molto più bello No Sì Così è molto più bello Così si affaccia Completamente Sul lago Raga Guardate che figata Molto figo Ok Possiamo Riscendere Vabbè Magari aspettiamo Finchè non si Non si toglie Sta pioggia Raga Vabbè Riavvio il video Quando si toglierà La pioggia Ok raga Finito di piovere Stavo scappando Agli scheletri Stavo cercando Di ritrovare La via di casa Perché me la sono Dimenticata Cioè mi sono Dimenticata Da dove venivo Proprio Credo che venivo Tipo da di qua Sì Credo che venivo Da di là Proviamo Via raga Scappiamo Che ce ne sono Un botto Merda Sti scheletri Di merda Ho detto Merda Sti scheletri Di merda Sì Credo Dovrebbe Essere Di qua Raga Se mi ricordo Bene Dovrebbe Essere Di qua Aglia Che male Siamo tanti Siamo tanti Ragazzi Siamo tanti Eh se forse Sto mondo Qua si scopre Eh così Qua Dovrebbe Essere Di qua Via 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 Dovrebbe Essere Tipo Di qua Ultima Bistecca Sì È qua È qua Ok L'ho ritrovata Eh però Ci sono un botto Di mob Passiamo Allargo Passiamo Allargo Che culo Raga Non l'ho Fatto esplodere Quello Ma no Aspè Ma non è qua Ma dove cavolo è Io mi sono Dimenticato Ok Ah sì È qua Ok È qua Mi sembrava a me Che non era Ok Raga Io ho raccolto Molta pelle Quindi Per questa puntata Può finire Anche perché Abbiamo fatto Tanti progressi Abbiamo messo La scala sicura Siamo andati Siamo andati Magari in cerca Un pochino Di legno Quindi Direi che Per questo episodio Può andare Peccato Ziz Che non ho trovato Ti saluto ancora Ziz Ciao Peccato Che non ho trovato Le pecore Perché veramente Non ci sono Sta zona Devo cercare su internet Dove trovare le pecore In minecraft Perché se no Finiamo male E niente raga Io vi saluto Usciamo dal gioco Ecco qua raga Io vi saluto Ci vediamo al prossimo video Ovviamente Come sempre Attivate la campanella Iscrivetevi al canale Lasciate un pollice in su Basta E lasciatemi dei commenti Per supportarmi E niente raga Ci vediamo al prossimo video E ciao